L'argomento di oggi è un tema importantissimo, perché comunque è un tema che affascina tutti, diciamo la verità, è così, io pure che non capisco molto di fisica, di astrofisica e tante altre cose, però i buchi neri sono sempre un tema affascinante. I buchi neri hanno quel non so che, quel je ne sais quoi, perché riescono in qualche modo, nonostante da un punto di vista matematico e formale ci si arrivi facendo tutto, una serie di passaggi abbastanza complicati, sono oggetti che poi si studia una magistrale in fisica in modo un po' più raffinato, spesso solo una magistrale in fisica teorica da un punto di vista matematico e da un punto di vista sperimentale in magistrali, ad esempio in astrofisica, non di meno, dicevo, sono oggetti che arrivano direttamente alla pancia, in qualche modo stimolano la nostra fantasia, la nostra immaginazione, sono stati protagonisti di così tanti film, romanzi, fumetti e quindi in qualche modo non potevamo non parlarne, se poi a questo ci aggiungi il fatto che ai buchi neri ho dedicato un po' d'anni di lavoro nella mia vita, la cosa va quasi da sé. Bello, bellissimo, sì perché c'è sempre questa fascinazione mista un po' a terrore, no? Perché poi alla fine... E' grandi film cosmici, no? Diciamo che non è una cosa, infatti ogni volta si chiede sempre ma c'è un buco nero nella nostra galassia, nella parte più vicina a noi? Perché uno pensa sempre, oddio, che cosa succederà. Però insomma vedremo oggi tutte le implicazioni possibili, già lo vediamo dal titolo proprio dove arriveremo. Sì, perché in qualche modo l'idea di questa rubrica è quella di parlare di formule che hanno un impatto sociale, politico e in questo caso, ammettiamolo, abbiamo un po' stirato questo nostro proposito, questo nostro slancio per riuscire a infilarci dentro i buchi neri. Quindi arriveremo a parlare di potenziali modi in cui i buchi neri possono fare da fonte di energia per magari una civiltà galattica o intergalattica, cose di questo tipo molto fantasiose, ma prima di arrivare lì abbiamo bisogno di capire cosa i buchi neri siano. Quindi attendo solo che tu mi dia il via e parto. Per me poi possiamo partire, non so se dalla chat aspettiamo altri due o tre minuti, ma non credo perché dai, se no poi non abbiamo tempo per dire tutto. Sai cosa? Partiamo con un riassunto di alcune puntate precedenti particolarmente rilevanti per quello che dobbiamo dirci oggi, così magari se qualcuno arriva un po' in ritardo riesce comunque a saltare a bordo lungo il percorso. Due cose sono assolutamente fondamentali. La prima ce l'ha insegnata la relatività speciale, ce lo siamo detti qualche puntata fa. Nulla può andare più veloce della luce nel vuoto. Nessun segnale, nessun oggetto, nessuna onda, nessuna trasmissione di informazione, per quanto ne sappiamo. Questa cosa è molto 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 solida. Tutti i nostri esperimenti conservano questa proprietà. Poi sai, magari in futuro scopriremo che in certi regimi altissime energie questa cosa un po' cambia. Però, per quanto ne sappiamo oggi, tutto l'universo soddisfa questa legge. Nessun pacchetto di informazioni, nessun oggetto può andare più veloce della luce nel vuoto. Se sei un oggetto privo di massa, invece, ti muovi necessariamente a c, alla velocità della luce nel vuoto, per tutti gli osservatori. Noi avevamo parlato di quell'effetto un po' strano, per cui la luce va alla stessa velocità per tutti. Che tu vada incontro a una macchina o tu fugga dalla macchina, la luce che parte dai fanali ti arriva alla stessa velocità, che è una cosa molto molto strana, un po' controintuitiva, però è così. Così funziona la relatività speciale, che è parte della nostra teoria fondamentale dell'universo. Quindi, ricordiamoci questa cosa qui, perché senza un limite massimo alla velocità di trasmissione dell'informazione, non esisterebbe alcun buco nero. Dall'altro lato, dobbiamo ricordarci un po' la relatività generale, no? La relatività generale ci insegna tante, tante cose. Quella che però ci riguarda oggi è che lo spazio-tempo, proprio quella cosa che misuriamo con il righello e con il cronometro, non mi stuferò mai di ribadirlo, no? Perché poi si rischia di andare nell'iperuraneo e perdere i pesi che ci tengono ancorati al suolo e che ci permettono poi di connettere tutta questa roba alla vita di tutti i giorni, ai GPS, alle navicelle, e sta roba qua. Quindi ricordiamocelo, quando parliamo di spazio-tempo ne diamo una definizione operativa ed è esattamente quella cosa che misuriamo con il righello e con il cronometro. Ok, lo spazio-tempo, e ce lo insegna la relatività generale, non possiamo più trascurare questa informazione, poi è un oggetto dinamico, è un oggetto fisico nello stesso senso in cui lo è il campo elettromagnetico. Forse ha alcune proprietà peculiari, perché in qualche modo gli altri oggetti fisici gli stanno in groppa, però è un oggetto fisico a sua volta, quindi interagisce con gli oggetti in entrambe le direzioni. La forma dello spazio-tempo, le proprietà specifiche di una configurazione dello spazio-tempo, modificano il comportamento di tutti gli altri enti fisici e il comportamento, le configurazioni degli enti fisici, di quella che chiamiamo materia in relatività generale, ecco qui c'è un po' un'ambiguità e ci arriviamo, modifica lo spazio-tempo, la configurazione di materia, di roba nell'universo, deforma lo spazio-tempo e quindi c'è questa mutua interazione. Quando dico materia, stiamo molto attenti, perché se sono un fisico che si occupa di certe cose, quando dico materia mi riferisco magari a materia condensata, forse anche un fisico delle particelle, mi riferisco a un sottoinsieme degli oggetti del mondo, quelli che chiamiamo materia anche in gergo, no? In gergo. Spesso si parla di materia e di interazioni, no? L'interazione elettromagnetica, queste cose qui. Nel gergo della relatività generale, che è quello a cui ci atterremo oggi, quindi questo è il glossario della puntata, con materia intendiamo tutto ciò che non è spazio-tempo. In relatività generale la parolina materia ha una definizione un po' più ampia e si riferisce a tutto. Questo sembra ambiguo, in realtà ci addestra a una maniera di pensare necessaria per fare scienza in generale, ma fisica in particolare, ovvero le parole si ridefiniscono in funzione del contesto. L'importante è mettersi d'accordo su cosa significhino. Quindi oggi con materia ci riferiamo agli elettroni, ai bicchieri, ai libri, ma anche alla luce, ai neutrini, ai bosoni di Higgs, ai gluoni, a tutto, 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 tranne lo spazio-tempo. Ora, iniziamo a mettere queste due cose insieme e costruiamo dei buchi neri. Noi sappiamo che... Prendiamo un oggetto qua che ho attorno, questo bel testo di epistemologia che ho qua, no? Molto più perversa della relatività generale. Ora, la presenza di questo oggetto deforma lo spazio-tempo. È quella cosa che noi chiamiamo attrazione gravitazionale, lo curva. Non necessariamente lo so. Lo spazio-tempo va detta proprio così. Se diciamo curva lo spazio, stiamo deformando troppo le parole. Curva proprio lo spazio-tempo, in particolare la curvatura della direzione-tempo, che è quella che poi ci dà gli effetti che conosciamo, ma qua usciamo un po' dal seminato. Questo oggetto deforma lo spazio-tempo. E tanto più grande è la sua massa, tanto più deforma lo spazio-tempo. O in un gergo newtoniano, ha un campo gravitazionale più forte. Fissata la dimensione di un oggetto, fissata la dimensione di un oggetto, tanto più grande è la sua massa, tanto più intenso è il suo campo gravitazionale a una certa distanza. Quindi, la penna sente un campo gravitazionale che vale, facciamo due, che non vuol dire niente, perché ovviamente manca l'unità di misura, è una forza, se parliamo della forza di gravità, o dell'accelerazione, indipendentemente, formulatela come volete, vi do un numerino per intenderci. Fingete che io stia usando l'unità di misura. Sente una trazione gravitazionale, un'accelerazione di gravità 2, se è lasciato svolazzare, una certa forza che lo tira verso il libro, se noi raddoppiamo la massa del libro, sentirà una forza doppia. Se noi la triplichiamo, la sente tripla, se la decuplichiamo, la sente 10 volte di più. Ok? Un altro fatto. Fissata la massa del libro, tanto più siamo vicini, tanto più è intensa la forza di gravità del libro sulla penna. Anche questo è intuitivo. Possiamo portare questo tipo di ragionamento su scale del sistema solare, per capirci. Se la Terra raddoppiasse la sua massa, noi raddoppieremo il nostro peso, che è la forza con cui la Terra ci tira. No? Sentiremo il doppio del peso sulle spalle, no? Sarebbe molto più difficile saltare. Se la Terra la dimezzasse, salteremo molto più in alto. Non è un po' quell'effetto che c'è sulla Luna, no? E ovviamente, ovviamente, tanto più lontani si è, tanto più è debole l'interazione gravitazionale. E meno male che è così, altrimenti sentiremo l'attrazione gravitazionale del Sole. Ci sparerebbe, cioè, no? È quasi intuitivo che debba essere così. No, se non dipendesse dalla distanza, se non crollasse con la distanza, sentiremmo l'attrazione gravitazionale di tutti gli oggetti dell'universo tirarci allo stesso modo una certa forza fissa. È una cosa un po' strana, no? Perché dobbiamo stare attaccati alla Terra se c'è Giove? Perché Giove è molto più lontano. Ok? Questa è un po' l'idea. Poi, naturalmente, la gravità ha raggio infinito, quindi in senso stretto noi sentiamo l'attrazione gravitazionale di tutti gli oggetti dell'universo, no? A patto che ci abbia raggiunto, perché anche quella si muove alla velocità della luce nel vuoto, eccetera, la stessa roba. Però, spesso è trascurabile, la gran parte è trascurabile. Fatto questo cappellino introduttivo. Gli oggetti hanno una certa velocità di fuga, ora sto saltando un po' avanti perché altrimenti non posso fare proprio tutti i passaggi e questo non è assolutamente un discorso completo, ma cerca di essere un discorso lineare, no? Certo, sì, sì. Gli oggetti hanno una certa velocità di fuga che dipende sostanzialmente dall'intensità del loro campo gravitazionale. Ok? Ok. Se tu sei fermo, ok? Se tu sei fermo, tu, la velocità di fuga, che è una cosa molto importante quando costruisci dei razzi, ok? I razzi, è la velocità che è necessario che tu abbia se poi spegni i motori per riuscire ad allontanarti dall'oggetto senza ricaderci dentro. Ok. Questo è un po' una definizione, poi credo che definizioni diverse diano, però teniamoci di fianco quest'idea della velocità di fuga che poi in qualche modo tornerà fuori. Ok? Piccoli ingredienti qui e lì, no? Ovviamente per partire da Giove hai bisogno di una velocità di fuga più alta che per partire dalla Terra. Perché il campo gravitazionale è la superficie, anche se Giove è di gas, quindi è una cosa un po' strana, ma facciamo per capire. Io ero rimasta scioccata da piccola quando avevo scoperto che c'erano dei paesi, sì, dei paesi, dei pianeti che non erano fatti come la Terra, cioè dove non puoi stare in piedi, capito? Chissà quelle pressioni, cosa... Mamma mia. Quindi non è proprio il vapore acqua, ma diciamo per partire dalla Luna serve una velocità. Se hai una certa velocità iniziale è più bassa di quella sulla Terra e ti permette di... Allora, quella che ti permette di allontanarti è più bassa di quella di cui hai bisogno sulla Terra. Ora abbiamo messo sul tavolo un po' di ingredienti. Quando arrivano i buchi neri? Molto semplice. Noi abbiamo detto una cosa prima e dobbiamo sottolinearla. Il campo gravitazionale reagisce ad ogni forma di energia. Ok. Una differenza fondamentale tra la gravità di Newton e la relatività generale. Nella gravità di Newton la gravità è prodotta solo dalla massa che abbiamo scoperto essere una forma di energia, ricordiamoci che è uguale a C al quadrato, o comunque di dare un contributo all'energia di un corpo, in relatività generale, più in generale, non è da questo che viene il nome, però ogni forma di energia ha un suo campo gravitazionale. Quindi anche la luce produce gravità, deforma lo spazio-tempo. Ok? Qualunque cosa. Ora, però, detto questo, torniamo all'esempio del libro. Immaginiamo di raddoppiare la massa del libro, poi triplicarla, poi quadruplicarla, poi quintuplicarla, poi decuplicarla, mantenendone il volume. Ok? Mantenendone il volume. E poi ancora e ancora e ancora e ancora e ancora e ancora. Più lo facciamo, più aumenta la velocità di cui abbiamo bisogno per allontanarci dalla superficie del libro. Ok? Perché stiamo aumentando la sua densità di energia, stiamo aumentando il suo campo gravitazionale. Quindi ci tira di più, ci tira di più. E l'aumentiamo ancora e ancora e ancora e ancora e ancora e ancora e ancora, e a un certo punto succede che la velocità necessaria a fuggire dalla superficie del libro è, o è, superiore a, o esattamente identica se parti esattamente alla superficie, questo è il tema, alla velocità della luce nel vuoto. Questo è quello che succede. Perché la velocità nel che ti serve per scappare, partendo con quella velocità dalla superficie, aumenta, 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 man mano che aumenti la massa in un certo volume, adesso evitiamo il libro che è un'irregolarità, prendiamo lo sferico, no? Come sempre in fisica le cose sferiche sono più facili, tu hai sta palla, la velocità che ti serve per scappare dal suo campo gravitazionale partendo dalla superficie dipende dalla sua energia, quindi dalla sua massa e dalle altre cose che ci metti dentro, più l'aumenti, più questa velocità aumenta, l'aumenti ancora, aumenta ancora, l'aumenti ancora, aumenta ancora e a un certo punto niente più può scappare. Perché ti servirebbe, no, avresti bisogno di andare più veloce nella luce nel vuoto, localmente, se tu sei lì devi fare una misura e devi avere una roba che va più veloce della luce nel vuoto, questo non può succedere e quindi niente può più scappare. Quindi cosa ci siamo detti? Che fissato un volume sferico c'è una soglia di massa raggiunta la quale raggiunta la quale nulla può più scappare, nemmeno la luce. Ed è per questo che si parla di buco nero, no? Perché banalmente non potendo scappare nemmeno la luce tu non lo puoi vedere in un certo senso, non puoi vedere nulla di quello che è dentro questo oggetto. Poi cercheremo di capire di cosa sono fatti, ma intanto capiamoci, questa è la nostra prima intuizione. Quindi fissato il volume se aumentiamo la massa otteniamo un buco nero, un oggetto da cui semplicemente non si può scappare e più dentro vai, peggio, eh? E possiamo fare pure il contrario. Possiamo scegliere una certa massa, ok? Quindi prima abbiamo fissato il volume e abbiamo aumentato la massa. Tipicamente in fisica succede un'altra cosa. Tu hai una certa massa, una certa energia e la comprimi, riduci il suo volume, riduci il suo volume, riduci il suo volume e stai ottenendo sostanzialmente la stessa cosa. A un certo punto raggiungi quel volume tale per cui la massa che avevi all'inizio è la massa che fa sì che nulla possa scappare. Via il buco nero. Questa è anche la maniera in cui i buchi neri tendono a generarsi nel nostro universo. Ok. Why? Adesso, secondo me, infiliamo questo piccolo, questo piccolo elemento di realtà e poi torniamo un po' a come i buchi neri si comportano. Nel nostro universo tu hai bisogno di degli oggetti belli ciccioni per ottenere dei buchi neri e hai bisogno di tanta massa e questa te la danno di solito le stelle. No? Te la danno le stelle. Le stelle sono tenute in posizione da un equilibrio. La trazione gravitazionale di una stella su se stessa tende a comprimerla. ma dentro ci sono delle reazioni nucleari che tendono a espanderla. Ok. E questo la tiene un po' in equilibrio. Quando il carburante della stella inizia a finire, ovviamente, la trazione gravitazionale vince e quindi la comprime. Entrano in gioco altri effetti. Poi devi avere una stella abbastanza grande per seguire il percorso che stiamo seguendo adesso. Se è una stella con una massa troppo piccola, di solito poi a un certo punto si ferma e raggiunge uno stato stabile in altro modo. Ma ora pensiamo a una stella abbastanza grande. Una manciata di masse solari sono sufficienti a ottenere questa cosa di cui stiamo parlando. Si mettono in moto altri meccanismi che le impediscono di collassare per un po', effetti quantistici particolari legati al principio di esclusione di Pauli per chi ha sentito parlare di queste cose non è troppo importante. Fatto sta che qualunque altro meccanismo a un certo punto salta se siamo sopra una certa soglia di massa e la stella collassa producendo un buco nero. Quindi quello che tu vedi è questa roba che diventa più piccola sempre più piccola sempre più piccola sempre più piccola e poi a un certo punto vedi un buco nero vedi questo guscio da cui non sfugge niente vedi quello che noi chiamiamo orizzonte degli eventi che è un nome meraviglioso la superficie di un buco nero esattamente quella superficie da cui non puoi scappare perché per scappare bisogna esattamente andare alla città della luce nel vuoto quindi se sei più vicino al centro del buco nero dell'orizzonte degli eventi per scappare devi andare più veloce della luce nel vuoto localmente quindi non lo puoi fare è esattamente quell'orizzonte quel limite della nostra vista oltre il quale non possiamo vedere nulla tale per cui non abbiamo accesso agli eventi che stanno dall'altra parte agli eventi fisici quindi l'orizzonte degli eventi nel senso che è il limite degli eventi che possiamo vedere ma una domanda perché ho avuto questo flash di quando studiavo geografia astronomica però ovviamente non mi ricordo perché sono passati tanti anni ma la cosa che dici della stella dipende dall'età della stella ma succede quando la stella ha consumato il suo carburante ok perché mi ricordo questa cosa delle varie fasi dei colori però attenzione dipende anche da quanto la stella è massiccia si dice in gergo non dalla sua è un limite che è il limite io sbaglio sempre i nomi ma adesso non mi viene sul primo perché sono terribile non ti preoccupare Holman Oppenheimer Volkov no tra l'altro è quella cosa che appare in Oppenheimer all'inizio con le sue pubblicazioni ah il successo i buchi neri ah sì loro hanno stimato un limite adesso non mi azzardo perché non ricordo un numerino esatto ma è poca roba di massa tale per cui sopra quel limite si innesca il collosso gravitazionale alla morte della stella e quindi produce un buco nero ora però noi abbiamo capito che abbiamo questi oggetti che hanno questo orizzonte degli eventi no e dentro la roba in qualche modo si andrà a compattare ma di cosa è fatto un buco nero eh infatti di cosa è fatto l'orizzonte degli eventi questa è una tu come te lo immagini no tu hai sta palla nera ma di cosa ti immagini sia fatto l'orizzonte degli eventi ma e allora in realtà nella mia versione fantasiosa mi immagino anche se sto cioè mi immagino tipo una sorta di hai visto quando si creano non il tornado però quelle voragini all'interno del mare che risucchiano all'interno tutto quello che c'è e quindi c'è tutto dentro me lo immagino così allora non è troppo sbagliata l'intuizione nel senso che lo spazio-tempo in presenza di quello che poi noi chiamiamo pozzo gravitazionale un po' a seconda funziona un po' come un tapirulane o come la corrente marina no per stare immobile nella corrente marina tu devi nuotare più forte la corrente più forte devi nuotare per stare fermo ok è una distanza fissata da da quel dal mulinello no il buco nero è un oggetto tale per cui per stare fermo all'orizzonte degli eventi devi nuotare alla velocità della luce ok quindi per allontanarti sicuramente hai capito per allontanarti dovresti andare più veloce localmente quindi l'immagine del mulinello della corrente marina del tapirulane aiuta in questo senso in realtà però l'orizzonte degli eventi allora intanto abbiamo detto che la sua posizione questo è molto importante no la dimensione di questo guscio sferico dipende da quanta materia ci metti l'abbiamo detto quando è un certo volume una certa quantità di materia o se hai fissata la quantità di materia come di solito hai in natura questa corrisponde a un certo volume da dentro il quale non può fuggire niente no quindi fissata la massa fissata l'energia la dimensione dell'orizzonte degli eventi quello è no la dimensione di questa palla che tu guardi l'area della superficie del buco nero e qualunque cosa faccia la materia dentro se continua a compattarsi o qualunque cosa la sua massa quella resta e quindi l'orizzonte degli eventi resta lì dov'è questo è molto importante l'orizzonte degli eventi è niente più e niente meno che spazio-tempo questo è molto importante perché se parliamo di buco nero in realtà la testa ci va all'orizzonte degli eventi ma l'orizzonte degli eventi il buco nero è una specifica configurazione dello spazio-tempo quindi è spazio-tempo l'orizzonte degli eventi è fatto di spazio-tempo poi dentro c'è della materia che gli fa da sorgente che porta lo spazio-tempo a stare in quella configurazione no? ma lì c'è una lampada lì c'è una lampada c'è un filo che viene scaldato e produce luce per il raggiamento sì il filo scaldato è un po' come la materia che fa da sorgente al buco nero la luce è un po' come il buco nero stesso c'è una sorgente c'è una configurazione dei campi che rispondono a questa sorgente e quindi l'orizzonte degli eventi è fatto di spazio-tempo questo è molto se vogliamo dirla un po' in gergo vogliamo dirla un po' in gergo e questo ci dice anche un'altra cosa che tu un orizzonte degli eventi tutto sommato lo puoi attraversare tranquillamente adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo da quello che ci siamo detti prima segue una cosa molto banale che più materia hai più è grande l'orizzonte degli eventi ok cioè più roba butti in un buco nero più sto buco nero è grande perché appunto ti serve comprimere meno la materia per avere lo stesso effetto di campo gravitazionale intenso se tu aumenti la massa rendi il campo gravitazionale più intenso e quindi la superficie oltre la quale non si può più fuggire diventa più grande no è semplicemente semplicemente questo c'è però un effetto abbastanza divertente che che fa sì adesso cerco di darti l'intuizione che certo se tu aumenti la materia se aumento la massa di questo libro e tengo la penna a una distanza fissa a una distanza fissa ok il campo gravitazionale man mano alla penna man mano che aumento la massa del libro aumenta no? ce lo siamo detti prima ok ma il campo gravitazionale all'orizzonte degli eventi perché se questo è un buco nero io aumento la sua massa cosa ottengo? ottengo un effetto che aumenta il campo gravitazionale ma anche un effetto che allontana l'orizzonte degli eventi perché si ingrandisce ok ecco quindi in realtà se tu vuoi sapere quant'è il campo gravitazionale all'orizzonte degli eventi se aumenti la massa tu dici è di più o è di meno potrebbe essere di più perché sto aumentando la massa ma potrebbe essere di meno perché da questa massa mi sto anche allontanando no? quindi c'è una competizione tra questi due effetti no? l'aumentare la massa ovviamente se si ha distanza fissata c'è poco da dire il campo gravitazionale aumenta certo se tu stai confrontando il campo gravitazionale all'orizzonte degli eventi non lo stai confrontando a una distanza fissa perché l'orizzonte si allontana certo quindi hai quell'effetto di massa che aumenta che tende ad aumentarlo e l'effetto di distanza che tende a diminuirlo ecco si scopre facendo i conti che vince l'effetto distanza quindi tanto più massiccio è un buco nero tanto più naturalmente il suo campo gravitazionale a una certa distanza dal suo centro è maggiore ma tanto più piccolo è il campo gravitazionale al suo orizzonte degli eventi che è una cosa un po' bizzarra una cosa un po' bizzarra ma spero che ci siamo capiti in realtà una volta che guardi i conti è abbastanza intuitivo però però appunto perché banalmente ma questo è proprio banale il raggio del buco nero cresce linearmente con la sua massa come una retta ok ok l'intensità del campo gravitazionale e quindi quindi se aggiungi massa fai crescere linearmente il buco nero l'intensità del campo gravitazionale forse questo ce lo ricordiamo dal liceo decresce come uno fratto raggio al quadrato no dalla distanza se ti ricordi la legge di newton g m m fratto r al quadrato e quindi tu cosa ottieni ottieni una cosa che cresce linearmente con la ottieni intanto la forza di gravità che cresce linearmente con la massa perché hai la massa al numeratore no quindi se aumenti la massa aumenta ma ti stai allontan il campo l'orizzonte degli eventi si allontana e lì sotto hai un r quadro te lo scrivo guarda facciamo così così ti ricordi che il campo gravitazionale è una cosa che va ti diciamo la forza di gravità su una massa è una cosa che va tipo così no g costante di newton m del nostro buco nero m piccola della massa che vogliamo mettere all'orizzonte degli eventi r al quadrato sotto ok della distanza ok ma noi sappiamo a che distanza è l'orizzonte degli eventi è una cosa che ha delle costanti davanti ma non importa ok ci va come m quindi diciamo che il raggio è tipo lo chiamiamo km dove dentro k ci buttiamo tutte le costanti fisiche che non ci servono ok quindi questa cosa qui è g m m sotto ci mettiamo un bel k al quadrato m al quadrato se vogliamo la forza di gravità all'orizzonte degli eventi no perché abbiamo la massa del buco nero la massa della massa e poi r il raggio del buco nero e siamo all'orizzonte degli eventi e ma capisci bene che adesso è tutto chiaro perché qua c'è un m qua c'è un m alla seconda se io lo semplifico mi resta solo un m e quindi il il campo gravitazionale c'è la forza di gravità o il campo gravitazionale che dir si voglia se tu ci metti o meno quell' m piccolo decresce come 1 fratto m all'orizzonte degli eventi ok ok questo che effetto produce produce un effetto legato alle cosiddette forze di marea quello che ti deve preoccupare quando ti butti intanto se tu sei un punto non c'è nessun problema tu ti butti nel buco nero non è che senti qualcosa perché quando ti lasci cadere nello spazio-tempo e ti muovi come lo spazio-tempo vuole l'abbiamo detto non senti peso stai galleggiando sei in caduta libera come nell'ascensore che cade e questo vale anche per i buchi neri quindi se tu ti lasci trascinare verso il buco nero non senti un tubo anche quando raggiungi l'orizzonte degli eventi non senti niente perché sei in caduta libera non senti proprio peso galleggi no? e ci vai verso il punto però è che noi non siamo punti il punto è che non siamo punti quello che ti frega sono quelle che ho appena nominato le cosiddette forze di marea le forze di marea nascono dal fatto che quando tu ti butti verso un buco nero e sei un corpo sei un oggetto esteso non è detto che il campo gravitazionale alla tua testa sia uguale a quello ai tuoi piedi se lo fossero però se ti butti di testa verso il buco nero il campo gravitazionale alla tua testa è diverso è un po' più forte di quello ai tuoi piedi quindi se questa differenza è grande questo sì che ti fa male perché ti spaghettifica come si suol dire la tua testa ti spaghetificazione anche in inglese ma è bellissimo spaghettificazione perché diventi uno spaghetto mi fa venire in mente proprio la ce lo senti quando fanno la carne macinata che esce dal macchinario quella roba lì sì sì vieni proprio bellissimo un elastico è bellissimo però mi ha fatto bellissimo termine non è bellissimo la sensazione e questo è un vero problema se vuoi buttarti in un buco nero ma qui ma qui torna il calcolo che abbiamo fatto prima ovvero siccome man mano che tu aggiungi massa al buco nero cresce molto velocemente molto velocemente quello che succede se ti butti in un buco nero piccolo non solo è che la forza di gravità è più forte all'orizzonte degli eventi ma anche che la dimensione del tuo corpo non è completamente trascurabile cioè se ti butti in un buco nero di due metri la distanza tra la tua testa e i tuoi piedi è molto significativa e quindi la differenza tra il campo gravitazionale alla tua testa e quello ai tuoi piedi è grande e quindi altro che spaghetcina precisamente precisamente se tu però invece ti butti in un buco nero grande centomila chilometri rispetto a centomila chilometri la lunghezza del tuo corpo è trascurabile e quindi la forza di gravità alla tua testa è più o meno uguale a quella ai tuoi piedi e quindi non c'è spaghettificazione ergo nonostante l'intuizione suggerisca al contrario perché ci sembra che un buco nero con più massa sia una roba più pericolosa esatto se dovete scegliere in che buco nero buttarvi buttatevi in un buco nero il più massimo possibile sì perché non ve ne accorgete neanche se non aprite i finestrini non ve ne accorgete neanche ok poi altre altre caratteristiche bizzarre dei buchi neri ti dico un'ultima cosa che però è concettualmente mi rendo conto che è una cosa che concettualmente è difficile da afferrare senza l'equazione sotto mano quindi provo ad andare solo a parole solo a parole ma al massimo ti dico se non capisco ma non ho mi immagino ovviamente se avete domande ragazzi fatene che poi quando Davide finisce a spiegare mi rispondiamo non sei tu che non capisci sono io che probabilmente non troverò le parole giuste per spiegarlo ma davvero capisco ci sono dei concetti che spiegarli è molto difficile no e io mi immagino mi immagino a provare ad affrontare questa cosa senza avere l'equazione sotto perché una volta che so l'equazione è una cavolata se mi immagino a provare ad affrontarla la prima volta senza avere l'equazione sotto mi vengono i capelli bianchi quindi ci provo ci siamo detti che in relatività generale il tempo scorre in modo diverso in punti diversi sì ok ok quindi immaginiamo e in particolare in particolare confrontando due osservatori perché il tempo non è che scorre a una certa velocità scorre sempre a una certa velocità rispetto al tempo di qualcun altro è sempre un confronto tra due non c'è nulla di assoluto questo vale naturalmente anche vicino a un buco nero e quindi ci immaginiamo due astronauti siamo io e te ok siamo io e te che ci avviciniamo a un buco nero con la nostra astronave ok tu decidi di stare a bordo ok perché sei più razionale cauta e avveduta io decido di buttarmi verso il buco nero quindi la prima cosa che fai tu è piantare i tuoi reattori quella cosa del nuotare per stare fermi no pianti i tuoi reattori siamo abbastanza lontani dall'orizzonte degli eventi ok tale che da fare in modo come lo dico in italiano vedi che cosa succede sei proprio che non ti attrae troppo il buco nero ha una foca tali che ti spingano con una forza pari e inversa alla forza che il buco nero esercita su di te questo vuole e quindi la bilancia ti spinga ferma a una certa distanza dall'orizzonte degli eventi io mi butto all'inizio sincronizziamo i nostri orologi ok perché siamo nello stesso punto poi io mi avvicino un po' al buco nero sento un campo gravitazionale più intenso ok il mio tempo inizia ad andare un po' più piano del tuo ah ok eh sì perché io sento un campo gravitazionale più intenso e quindi tu mi vedi andare a rallenti no andare sempre più a rallenti poi mi avvicino ancora un po' tu mi vedi andare sempre più a rallenti perché in un secondo tuo passa mezzo secondo mio ok ok poi mi avvicino ancora un po' in un secondo tuo passa un decimo di secondo mio poi mi avvicino ancora un po' in un secondo tuo passa un centesimo di secondo mio e quindi la fisica va sempre descritta dal punto di vista di un osservatore dal tuo punto di vista io mi avvicino al buco nero sempre più piano ok dal mio punto di vista io ti vedo sulla navicella che non so ti fai il tè fai quello qualunque cosa tu voglia fare navicella e fai le cose sempre più velocemente perché in un mio secondo ne passa prima due tuoi poi cinque tuoi poi dieci tuoi poi cento tuoi quindi tu mi vedi andare sempre più piano e io ti vedo andare sempre più veloce e non c'è un adesso in cui ci possiamo dire cosa sto facendo io cosa sto facendo non sono effetti un tempo diverso tu puoi fissare un mio punto e ti so dire cosa tu stai facendo in quel momento o viceversa tu dici adesso lui cosa sta andando verso il buco nero i nostri la velocità con cui scorrono i nostri tempi inizia ad essere sempre più diversa sempre più diversa man mano che io mi avvicino all'orizzonte degli eventi e il numerino che ti dà la velocità relativa dello scorrere dei nostri tempi cioè quanto più piano al mio tempo va rispetto al tuo diverge all'orizzonte degli eventi all'orizzonte degli eventi diventa infinito cosa significa che nel tuo tempo possiamo in realtà non significa niente in senso generale possiamo descrivere cosa significa dal punto di vista di Francesca e cosa significa dal punto di vista di Davide ok dal punto di vista tuo significa che io per arrivare all'orizzonte degli eventi e badate bene non è un illusione non è una questione di immagini non è che io ci entro e lei non mi vede entrarci ma dal punto di vista di Francesca nel mondo di Francesca nella fisica descritta da Francesca io non raggiungo mai l'orizzonte degli eventi ci metto cioè ti vede rallentare ti vede rallentare sempre di più e non raggiungerlo mai perché diverge il tempo che ci metto ok ma dal mio punto di vista io all'orizzonte degli eventi ci arrivo in un tempo finito e quindi nel mondo descritto da Davide nel mondo descritto da Davide io entro nell'orizzonte degli eventi ok in un tempo che nei secondi di Davide è 500 secondi nei secondi di Francesca è infiniti secondi quindi quando il mio orologio fa 500 io sono entrato nel buco nero nel tuo universo sono passati infiniti secondi se mi giro vedo tutta la storia del tuo universo andare all'iper all'iper acceleratore e passare infinito tempo non so bene che esperienza sia ma è un po' il principio della stanza dello spirito del tempo di Dragon Ball portato all'estrema è quella roba lì sì sì non so perché a me è venuto in mente interstellare in questo momento anche interstellare anche interstellare gioca un po' con lo stesso tipo di fenomeno questa è una cosa difficile da immaginare però questo è quello che succede in buco e quindi dal punto di vista di un osservatore esterno fisso a una certa distanza dal buco nero niente entra mai in un buco nero cioè lo vedi sempre lì le cose si spalmano sulla superficie sempre più vicina alla superficie sempre di più sempre di più sempre di più sempre di più e poi a un certo punto c'è un buco nero un po' più grande perché hai più massa in un volume perché la massa è un po' aumentata e quindi ti trovi con un buco nero più grande questo è quello che succede però non vedi mai qualcuno che letteralmente entra dentro il buco nero ok hai solo un buco nero più grande come prodotto tra l'altro tra l'altro tu non mi vedi solo diventare andare sempre più piano mi vedi anche diventare rosso perché si contrae cambia anche la nostra nozione di metro no? un mio metro non è più il tuo metro ok? ah certo quindi la luce che io emetto è definita sullo spazio dove sono io la lunghezza d'onda della luce e quando arriva a te si allunga e quindi vado verso il rosso perché tu vedi la lunghezza d'onda dilatata c'è red shift come si dice invece versa io ti vedo diventare blu sempre più blu sempre più blu perché tu butti fuori la tua lunghezza d'onda che poi finisce nel mio nel mio spazio e cambia la sua frequenza cambia la sua lunghezza d'onda e tu mi vedi sempre più veloce ovviamente mano a mano che ti avvicini cioè che faccio cose più sì beh dal mio punto di vista io ci metto un tempo finito a entrare nel buco nero e nel frattempo passano infiniti secondi sulla tua navicella non so bene io cosa veda in quel senso magari a un certo punto ti vedrò andare via perché ti sei stufata ragione il no vabbè è geniale questa cosa cioè è allucinante da pazzi da pazzi poi stiamo parlando ancora di buchi neri classici quindi noi ci aspettiamo che i buchi neri quantistici possono avere delle proprietà extra ok ma oggi non ad esempio la meccanica quantistica ci dice che il buco nero deve evaporare e a un certo punto sparire buttare fuori materia perdere ma una cosa una cosa buttare fuori materia per effetti creare materia molto vicino alla superficie che si allontana e quindi perdere massa questa è l'evaporazione dei buchi neri una cosa complicatissima quantistica che non abbiamo ancora capito fino in fondo oggi restiamo sui buchi neri della relatività generale peraltro chiedono che suono fa l'ambulanza che si tuffa nel buco nero eh beh farà una roba tipo piu va giù no magnifico eh sì da te per te farà sempre più basso se va più rallenta e va verso il basso no perché di lato l'onda sonora e diventa rossa quindi diciamo tralasciamo tutte le cose che ci aspettiamo sui buchi neri quantistici restiamo nella relatività generale sì c'è un teorema molto facile che ci dice che i buchi neri sono l'oggetto più semplice dell'universo perché non possiedono strutture in te per un osservatore ma questo è intuitivo no per un osservatore esterno un buco nero non ha una struttura interna in senso letterale perché tutto quello che succede dentro un buco nero non ti può raggiungere per te non esiste non solo non ti può raggiungere non esiste perché se tu lanci una cosa ci mette infinito tempo a raggiungere l'orizzonte degli eventi quindi il tuo mondo se sei fuori finisce all'orizzonte degli eventi ok questo è molto importante non è solo una roba che c'è su qualcosa dietro una tenda che succede perché questo è molto importante e bisogno dobbiamo concettualizzarla in questo modo quindi un buco nero per te non ha struttura interna non è complicato come un libro che ha del testo non è come delle cuffiette non è una roba prima di sto poi quando accendiamo la meccanica quantistica le cose probabilmente cambiano ok i buchi neri diventano sistemi termodinamici con un'entropia l'informazione la rava però magari un'altra volta a livello classico un buco nero non ha struttura interna e quindi è l'oggetto più semplice dell'universo molto più semplice di un libro e questo teorema ci dice che in relatività generale i buchi neri sono completamente classificati da tre numeri la loro massa quindi la loro energia totale la loro carica elettrica ok se sono carichi o meno se tu prendi tanti elettroni e ci fai un buco nero quella roba avrà la carica che avevano gli elettroni poi avrà un campo elettrico attorno ok ok e il loro momento angolare quanto girano ah ok perché tu se prendi due Beyblade che girano allo stesso modo li fai sbattere e fai un buco nero avrai una roba che gira ok ok noi studiamo questi tipi di buchi neri il buco nero che ha massa e basta che non ha momento angolare e adesso ti do un po' di nomi ma solo perché poi uno così se li può andare a cercare che ha massa e non ha né carica né momento angolare che è un buco nero molto irrealistico che abbia esattamente cioè la carica va bene perché poi le cariche si attraggono e si annullano quindi si accarica e ci cadrà dentro qualcosa con la carica opposta e si annullerà però è difficile avere nella realtà una roba che ha proprio momento angolare zero che non gira proprio niente molto devi proprio azzeccarlo precisamente no di solito quelli reali hanno un po' di momento angolare però comunque un buco nero che ha solo massa e gli altri due numerini sono a zero è il cosiddetto buco nero di Schwarzschild che è il primo che abbiamo scoperto è il cognome del tizio che l'ha inventato che ha risolto l'equazione se ci mettiamo carica elettrica abbiamo il cosiddetto buco nero di Reisner Nordstrom che è una cosa con tutto quello che ci siamo detti vale per il buco nero di Schwarzschild se tu inizi a fare altre cose succede un casino banalmente il buco nero carico il buco nero di cosiddetto Reisner Nordstrom ha due orizzonti degli eventi uno dentro l'altro succedono altre cose tutta una cosa se ci metti il momento angolare nessuna carica il cosiddetto buco nero di Kerr a cui torneremo tra poco e se invece hai tutte e tre hai il cosiddetto buco nero di Kerr Neumann che è il più strano di tutti quindi ho buttato un po' di nomi per fare un po' l'accademico anche perché il primo che avevi detto l'avevano nominato prima in chat hanno detto chiedigli che cosa ti succede nel buco nero di qualcosa di Schwarzschild è quello che abbiamo descritto è difficilissimo da scrivere è una roba tipo Nietzsche ok ok bene ottimo almeno Nietzsche è breve come nome ho continuato a sbagliarlo sempre tutta la vita quello che ci interessa visto che vogliamo un po' arrivare a una chiusura di questo discorso fermo restando che abbiamo detto un millesimo di quello che si può dire sui buchi neri come vedi ovunque guardi trovi proprietà strane interessanti meravigliose è il buco nero con un momento angolare carica nulla il cosiddetto buco nero di Kerr tra l'altro il signor Kerr è ancora vivo ha una sua edà più di 80 anni ma è ancora vivo e mi ha fatto pure andare virale su Instagram facciamo questo ha fatto questo ring sui buchi neri di Kerr su un paper di Kerr e Dio solo sa perché che è andato viralissimo l'ho visto sette milioni e mezzo di volte una cosa che non ha alcun sei una cosa sui buchi neri è una storia strana con Kerr e quindi adesso ho questo rapporto per insultando tutto è una roba meravigliosa poi magari te lo mando quindi un buco nero a cui sono partito perché sono trovato in mezzo a questa cosa queste orde di persone tutto il mondo una cosa bizzarra parlare di buchi neri il buco nero di Kerr fa delle cose strane è quello che gira tu te lo devi immaginare come un oggetto che si trascina dietro lo spazio-tempo e prende quando ti metti su un lenzuolo e lo giri che c'è quello che è lo spiraloidale no? è un po' una cosa così il buco nero di Kerr si trascina lo spazio-tempo dietro ok e quindi ha un orizzonte degli eventi ok come quello che abbiamo descritto prima ma attorno all'orizzonte degli eventi in un buco nero rotante c'è una cosa attorno più grande che chiamiamo ergosfera sono nomi bellissimi che poi non è nemmeno una sfera perché è schiacciata che chiamiamo ergosfera è una regione di spazio-tempo che non è abbastanza vicino al buco nero per essere dentro l'orizzonte degli eventi ma è subito fuori ok è una regione da cui puoi scappare velocità molto alte ti serve consumare tantissimo carburante grandi accelerazioni naturalmente però puoi scappare perché non sei all'orizzonte degli eventi ma è una cosa un po' strana non puoi non girare col buco nero quindi ti porta ti porta a girare in questo caso c'è l'orizzonte degli eventi ma attorno c'è un'altra regione in cui tu puoi che funziona un po' a metà puoi ancora scappare allontanandoti ma non puoi opporti al movimento rotatorio perché per stare fermo in quella rotazione è come nuotare in un mulinello in questo caso questo non è la cascata che ti tira dentro ma è proprio il mulinello che hai evocato tu prima per stare fermo nel mulinello devi nuotare più veloce della luce e quindi non puoi quindi nell'ergosfera puoi allontanarti andando linearmente proprio seguendo radialmente però se vuoi stare a una linea devi nuotare più veloce quindi non puoi quindi devi girare per forza ok è una cosa un po' particolare è che qualcuno Perros Perros ha ipotizzato in un gioco intellettuale possa essere una fonte di energia dell'universo futuro nel senso che a un certo punto ce ne sono tante di cose di questo tipo la fisica ne offre la fisica ne offre ai fisici piace chiedere ok ma tra centomila milioni di anni cosa ci aspettiamo che si possa usare ipotizzando di essere ancora qua io tra l'altro tendo ad essere molto ottimista tutti questi che ti dicono che l'umanità sparisce io non ci credo non abbiamo statistica non lo sappiamo se ci sono state estensioni di massa ma nessuna di queste bestie sapeva andare nello spazio io non so ma sospendo il giudizio ma dovessi scommettere 50 euro io siamo così capaci di resistere come da tutte le parti abbiamo una resilienza quella tatuata però è incredibile siamo adattivi in una maniera straordinata estinguiamo tutto quello che incontriamo siamo da un punto di vista biologico incredibili addomestichiamo creature noi costruiamo vaccini facciamo cose che non hanno alcun senso andiamo sulle montagne ghiacciate per gusto andiamo sull'Everest facciamo negli abissi per gusto io adoro gli esseri umani al netto di tutte le cose vado matto top 3 animali di sempre ora con i piccioni e i ratti e le formiche questi sono i miei animali come i piccioni i ratti e le formiche sono intanto bestie sociali sono gli animali più proletari di tutti le formiche i piccioni e i ratti sono queste colonie poi arriviamo all'energia dei buchi neri ma sono super adattivi tu prendi un leone cambi l'ambiente di un grado e il leone ti schioppa tu chiudi un ratto in una scatola l'apri un mese dopo e trovi un milione di ratti che si sono mangiati le gambe per stare in vita io questo lo adoro anche i piccioni abbiamo urbanizzato gli ambienti e i piccioni come si dice thrive lui mi metterei nella top 3 i pinguini però mi sa che quelli poverini a me piacciono queste formiche tutte le formiche mangiano qualunque cosa le trovi da tutte le parole però le formiche sono un po' invadenti lo posso dire sono invadenti sono invadenti sì 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 sono invadenti questo c'è da dirlo insomma vabbè torniamo al bucone chiudiamo col buco nero qual è l'idea di Perros che a un certo punto quando tutte le stelle sono morte o ben in cose che non ci danno tanta luce o ben in buchi neri tu avrai un po' di buchi neri rotanti ok tu cosa puoi fare puoi buttare un razzo facciamo un razzo lo facciamo la penna di nuovo con attaccata una granata un esplosivo un altro razzo che puoi iettare da questo lato per poi riallontanarlo quando ne hai bisogno un modulo che si sta lo butti nell'ergosfera ok lo butti nell'ergosfera cosa succede? che inizia a girare sempre di più 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 quindi fa una specie di acceleratore una centrifuga che accelera questo no? un gigantesco acceleratore di particelle con un meccanismo completamente diverso accelera il tuo razzo accelera il tuo razzo accelera il tuo raggio razzo non è incredibile poi cosa fai? stacchi il modulo verso il buco nero quindi lui verso il buco nero l'altro viene spinto di là salta fuori dall'ergosfera e tu lo raccogli con un'energia cinetica gigantesca che è succhiato via dal buco nero no? che si è mangiato dall'energia di rotazione del buco nero e quindi tu lo usi questo mulinello per accelerare le cose e poi fartele saltare fuori molto veloce e poi prendere l'energia magari usandole per modo che ti attacchi un enorme mulino galattico non so bene cosa tu però a quel punto siamo nella fantascienza no? si si facci un po' quello che vuoi ci fai energia meccanica no? poi diventa energia meccanica però idealmente tu puoi fare questa cosa qui consumando un po' la rotazione del buco nero però ce n'è quindi a quel punto andrà leggermente più piano no? perché hai succhiato via un po' di energia così però questo è il processo non si chiama il processo di Penrose per togliere energia dai buchi neri rotanti buttando oggetti nell'ergosfera lasciando caccellerne e poi ripescandole questa è un po' idea è fico è fico si però scusa lo puoi fare solo con quelli rotanti no? con gli altri eh sì necessariamente eh sì hai bisogno di questa regione intermedia da cui le cose possono uscire ma giusto perché sennò deve esserci per forza più della velocità della luce no? per uscire però realisticamente quasi tutti cioè sostanzialmente tutti tanto o poco i buchi neri realistici sono almeno un po' rotanti no? ok mentre se si parla di carica tu hai le cariche come dicevamo negative e positive e quindi se hai un buco nero carico negativamente attrarrà cariche positive che gli annullano la carica la rotazione non funziona così quindi tu non è che attrai cose che girano nel senso opposto e quindi per beccare esattamente cose che sommando la rotazione di tutte s'annullano tutte girano tutte è un po' difficile quindi un po' di rotazione ce l'avrai sempre come pescare un numero a caso e beccare zero proprio zero 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 no? e quindi in quel caso in quel caso un po' di rotazione ce l'hai tanta o poca percettibile o impercettibile però un pochino sì e sì c'è un enorme buco nero al centro della nostra galassia questo è eh sì infatti parliamo in che senso quanto è lontano? ma è guarda vediamo si chiama il bene lontano tanto tanto lontano vediamo quanto mi serve il raggio della via lati con queste cose si chiama Sagittarius A con l'asterisco come Sagittarius? si chiama Sagittarius A con l'asterisco sì 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 noi troviamo la foto le abbiamo pure fatto una foto ah ma allora mi sa che l'ho visto l'hai visto sicuro l'hai visto sicuro ma non mi ricordavo se chiamasse Sagittarius sono sto controllando i dati queste cose non le so ma sì come no era la foto quella che c'è stata qualche anno fa che era super che ha pigliato il Nobel e questa cosa qui esatto sono 4.3 milioni di masse solari quindi sono quasi 10 alla 37 chili quindi sono tanti numero 37 cifre di chili però insomma questo è più o meno il nostro buco nero che qua mi par di capire no guarda non oso perché perché non ho il numero preciso qua quindi non ti so dire a che distanza ma si parla di tanti 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 tantissimi anni luce quindi a posto non c'è size milky way magari qualcuno in chat lo sa ecco a meno di qualcuno i fisici professionisti questi numeri non se li ricordano mai mai giustamente guarda potrebbe qua potrebbe 20 po 27 mila anni luce tipo siamo a posto siamo a posto no però bellissimo nome sono molto contenta si chiama proprio Sagittarius Sagittarius poi vedi anche con l'asterisco quindi fa arrabbiare pillone effettivamente effettivamente un buco nero medio grande e beh immaginavo però noi abbiamo scoperto che è meglio avere un buco nero grande enorme meglio di quelli piccoli perché se no è un macello ci spaghettificano ti ci devi tuffare dentro poi attenzione se non ti ci tuffi dentro questo anche sfatiamo un ultimissimo mito fissata la massa non è che un buco nero ti tiri più di un'altra cosa con la stessa massa cioè se adesso io faccio collassare questo bicchiere in un buco nero sarà molto molto piccolo e la sua attrazione gravitazionale su di me sarà esattamente la stessa ok no è perché la massa quella è ecco ti do ti do un esempio così per darti un'idea la luna no se vuoi far collassare la luna in un buco nero puoi farlo ma puoi farlo con tutto naturalmente ma avevo c'era una tabellina adesso ci arrivo perché è interessante ritrovo la tabellina ma deve essere una sfera con earth schwarzschild o qua forse ho quello della terra più facile eccolo qua guarda il la terra ha un raggio di schwarzschild come si chiama di 9 mm quindi tu per fare un buco nero con la massa della terra devi schiacciare la terra in una sfera che ha 9 mm di raggio ok quindi è una roba abbastanza aggressiva cioè insomma questa è diciamo un cucchiaino di buco nero è tanta roba no no ecco questa cosa perché prima dicevano in chat poi sono stati corretti quindi non viene risucchiato dal buco nero beh viene attratto attratto esattamente come tutte le cose come tutte in tutti i campi gravitazionali certo è che se tu butti un buco nero in questa stanza inizia a mangiarsi l'aria attorno che gli casca e quindi si ingrandisce non inizia a ingrandirsi certo questo è l'effetto sostanzialmente stupendo bellissimo ragazzi una domanda al volo veloce che poi lasciamo andare Davide che è pure in Islanda e deve mangiare quindi devo mangiare sono le 5 e mezza adesso quindi ho tutto il tempo del mondo sono due ore di differenza due ore di differenza allora ah dicono in chat i buchi neri hanno un fine vita? eh forse io lo dicevi no classico no un buco nero classico può solo crescere ok cioè in relatività generale c'è proprio un teorema che ti dice dimostrato da Hawking se non è perso Hawking adesso sono sì direi Hawking che l'area di un buco nero può solo crescere adesso questo è uno di quei ricordati che dovrei ricordarmi dimostrare è il grano uno dei grandi risultati ce li hanno fatti tutti o Hawking o Penrose questi due quindi uno dei due di solito Penrose ha fatto quello sul collasso Hawking ha fatto quello sui buchi neri che possono crescere e l'area di un buco nero classico può solo crescere se ci metti la meccanica quantistica le cose si fanno più complicate nel senso che c'è tutta questa cosa dell'evaporazione dei buchi neri ma non mi sembra che abbiamo tempo per raccontarla ci ho fatto un video quindi potete andare a vedere quello si chiama come muoio nei buchi neri quindi guarda i tuoi social canali guardiamolo sempre voi mi trovate su instagram come davide.debiasio mi trovate lì faccio solo roba in inglese mi trovate però annuncio anche gli spettacoli ste robe qua mi trovate su youtube su tre canali oltre alla mia mi trovate su spazi attorcigliati che è il mio canale in italiano mi trovate su actually virgola che è il canale che gestisco in inglese dove carico solo piccoli documentari come quello che sono venuto a fare adesso ce n'è uno ma ne appariranno tre entro alla fine dell'anno roba con più lavori si chiama actually con la virgola c'è un video per ora ma lì ci faccio sei le interviste un po' alla history channel queste cose qua con la di tre quarti con la bella telecamera oggi sono a fare una cosa di quel tipo la mitologia non rene la cosmologia e un terzo canale che è il canale dell'international society for quantum gravity dove invece intervisto ricercatori in modo divulgativo però lì sono intervistozze di un'ora a ricercatori che fanno gravità quantistica spazio-tempo quantistico questo puramente non c'è solo roba mia ma diciamo ho un po' questo lavoro di gestione del canale youtube perfetto senti una domanda al volissimo e poi chiudiamo però non so se c'è tempo per rispondere casomai la prendiamo per la prossima volta assolutamente la storia che le particelle virtuali che si creano sull'orizzonte degli eventi in cui al posto di annichilirsi una finisce dentro al buco nero e una sta fuori facendo evaporare il buco nero è considerata vera o è solo un gioco da fisici no non è ne una nell'altra è un'euristica sono quelle immagini mentali che ti crei per spiegare le cose ma che secondo me crea più confusione che altre quindi quella è una la classica immagine mentale che però quando ci scavi un po' crolla perché non ha troppo senso cosa vuol dire la particella con energia negativa sappiamo che questo non c'è davvero c'è tutto un gioco che c'è nel racconto poi fa questa come si dice percolation entra nella divulgazione però non è è una specie di metafora per semplificarla che secondo me la rende solo più incasinata quindi quando la io proprio la cancello sia accademicamente che a livello divulgativo fingiamo che non ci sia e lo spieghiamo davvero che è più facile perfetto allora ragazzone e ragazzuole noi vi salutiamo allora e ovviamente ci rivediamo poi con Davide quindi non è l'ultimo appuntamento oggi di Grazie.